Ecco il triplice fischio, il fischio che determina la fine della gara, hanno dominato la partita in tutti i 90 minuti, trovando spesso il gol e trovando anche spesso la difesa avversaria impreparata. E tu cosa ne pensi della partita Luca? Hanno giocato bene, scegliendo di attaccare e sfondare soprattutto per vie centrali e grazie alla qualità di questo gioco offensivo sono riusciti a ottenere una vittoria meritatissima. Si chiude qui il nostro collegamento, ringrazio Luca Marchegiani per avermi accompagnato. Grazie e a presto Fabio! Grazie 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 Grazie